Ciao a tutti, sono Xander85 e come promesso vi porto un video su come aggiornare il BIOS di questa scheda madre, la X670 Gaming XAX in revisione 1.0. Allora, per prima cosa dobbiamo andare sul sito della Gigabyte, sezione Motherboard, selezionare appunto la scheda madre, andare nella tab Support e successivamente BIOS. Perfetto, qua troviamo tutti i BIOS che sono usciti per questa specifica scheda madre. Dal primo che è l'F5 all'ultimo che appunto ci interessa l'F22B. Noi andremo a scaricare l'ultima versione del BIOS. Non preoccupatevi perché l'ultima versione del BIOS contiene tutti gli aggiornamenti anche dei BIOS precedenti. Quindi, problemi zero. Andiamo su Download, scarichiamo il file zip. Lo andremo a mettere in una chiavetta USB che io ho già fatto precedentemente, vi faccio vedere. Esplora file, questo PC, unità USB i due punti, questa è la mia unità USB, e vi ritroverete questo file qui. Lo andate ad estrarre. E vi ritroverete appunto il file 22B che è il BIOS. Vi troverete anche un file PDF con le istruzioni di installazione per flashare il BIOS. Ma non preoccupatevi perché intanto queste procedure qui le faremo passo passo nel BIOS. Per entrare nel BIOS riavviamo il PC. Riavvia. A riavvio continuiamo a premere Cance. Perfetto, siamo dentro. Ok, adesso avete due possibili schermate. O questa qui, Easy Mode, oppure la modalità avanzata. Comunque, in entrambi i casi, voi premete il tasto F8. Una volta in questa schermata, dobbiamo andare a prendere direttamente il file dell'aggiornamento del BIOS nella nostra chiavetta. Quindi, clicchiamo qua. Andiamo qui nel menu a tendina. Riconosce la chiavetta USB come B2. Questo è il nome della cartella. Vedete qui. BIOS corrente, versione F9C. Passeremo alla versione F22B. Lo selezioniamo. Mettiamo... Andiamo avanti. Gli diciamo sì. Adesso sta facendo la verifica dei file. Perfetto. Ready to reboot. Pronto per il riavvio. Rifà di nuovo la verifica dei file. E adesso sta aggiornando il BIOS. Quindi, è una procedura molto molto semplice. E avvio. Siamo rientrati nel BIOS aggiornato. Eh, direi che a sto giro... Eh... Che figata. È veramente una figata. Hanno cambiato totalmente l'interfaccia grafica. Hanno cambiato praticamente tutto. Ovviamente le funzionalità rimangono invariate. Quello che prima utilizzavamo per aggiornare il BIOS rimane qui in QFlash. E se primo F8 dovrebbe rifare la stessa cosa. Esatto. Qua vediamo appunto che la versione del BIOS è cambiata. Però, tutti i vari settaggi, vedete che le memorie... Prima le avevo settate a 6.000, ora sono ritornate a 4.800, quello che è. Bisogna riportarle come era prima. Perché ogni qualvolta si fa un aggiornamento del BIOS, i vostri settaggi vengono sempre azzerati. Cioè, ritornano al... Di default. Quindi, andiamo nell'Advance Mod. Almeno questo non è il mio caso, per il mio setting. Preciso è un boost overdrive? No, lo lascio come DDR5 autobooster. Lo metterai in auto. Avevo il profilo EXPO1 che mi porta la memoria 6.000. Sì, perfetto. Questo lo tengo abilitato. EXPO, supporto per l'alta banda, enable. Ok. UCLK div 1 mod deve essere... UCLK deve essere uguale a memclock. Questi li possiamo lasciare così come sono. Il V-Core... La CPU V-Core, in questo caso, visto che abbiamo l'ultima versione del BIOS, possiamo anche lasciarla in auto. Se volete sapere il perché, guardatevi il primo video che ho fatto, sull'introduzione al BIOS di questa scheda madre. Io andrei a cambiare i parametri. Andrei a cambiare i parametri. Andrei a mettere 1.35. In modo da essere sempre stabili. 1.35. Perfetto. Advanced Voltage Settings. Lo lascerei così com'è. Direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Salva ed esci. E boh. Questo video finisce qui. Spero che vi sia stato d'aiuto. Mettete like. Commentate pure. Se avete qualcosa di specifico, scrivetemelo, chiedetemelo. Non c'è nessun problema. Al prossimo video. Ciao a tutti.